Buongiorno e buonasera, qui Shado Yoshi Oggi arrivo a voi con un breve vlog riguardo a una piccola richiesta che mi vedo consueto a fare Nel senso che alcuni di voi avranno notato, spero, se fate attenzione a queste cose Che stiamo raggiungendo su questo canale i 100 iscritti E mi ritrovo senza idee su cosa fare per celebrare l'occasione Perciò vorrei solo brevemente invitarvi a pensare insieme a me a qualcosa da poter organizzare Per appunto festeggiare questo traguardo Quando effettivamente li raggiungeremo questi 100 iscritti farò comunque un secondo vlog Con tutti i ringraziamenti dovuti eccetera eccetera Quello sarà per un altro video Per adesso ho bisogno che però mi diate una mano un attimo a decidere da farsi Vi dico comunque in anticipo grazie per il supporto Spero che qualcuno si presenti effettivamente a darmi una mano a pensare a cosa fare E niente, ci vediamo come sempre in un prossimo video Bella!